In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae Ora Pronobis. Carissimi fedeli, è iniziata la Santa Quaresima e volevo parlarvi un po' pochi minuti del Vangelo della prima Domenica di Quaresima. Nel Vetus Ordo il Vangelo è sempre quello del capitolo 4 del Vangelo di Matteo, i primi undici capitoli, cioè quando Gesù viene condotto, il testo dice espressamente così, viene condotto dallo Spirito nel deserto per esservi tentato da Satana. Quindi il Vangelo è molto chiaro, è molto espressivo. Gesù è appena stato battezzato nel Giordano, quindi ha ricevuto l'investitura pubblica di Figlio di Dio, proprio dalla voce stessa del Padre e dalla manifestazione della colomba, dalla profezia anche di Giovanni Battista. Ebbene inizia il suo ministero pubblico nel deserto. E chi è che lo conduce nel deserto? È lo Spirito. Perché lo conduce nel deserto? per esservi tentato. Proprio così. Quello che la nuova Chiesa modernista ed eretica non vuole sentire, ecco è espresso nei primi versetti di questo brano. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, conduce Gesù nel deserto per esservi tentato. È necessario che Gesù venga tentato, nel deserto. Perché? Perché deve riportare la vittoria su Satana. È vero che la vittoria è già scontata, in quanto egli è figlio di Dio, non può che essere vincitore contro una creatura, benché intelligente per quanto si possa credere, ma sempre una creatura. La vittoria è scontata, ma Gesù deve andare nel deserto per noi. Deve andare nel deserto per farci capire che solo in Gesù ci è possibile vincere sulle tentazioni che Satana ci tende. E anche per aprire la via della redenzione, affinché dopo di lui un popolo numeroso di credenti possa ripercorrere le sue orme ed essere salvo. Quindi nessuno di noi può esimersi dalla tentazione. Intendiamoci bene, non dobbiamo essere noi a cercarla la tentazione, questo mai e poi mai, ma sarà il Signore a porre nelle nostre vite, nella nostra strada, quelle tentazioni necessarie per renderci forti nello spirito, forti nella fede, forti nel combattimento. È necessario quindi, carissimi fratelli, calarsi nella battaglia per esercitare la nostra libertà, il nostro senso di responsabilità e di collaborazione con il piano salvifico di Dio. Dio, se non lo avete capito, non vuole dei rottami da trascinarsi lungo la via, perché li lascerà andare. Vuole delle persone che esercitano quella libertà che Lui ha donato a ciascuno di noi, perché ci ha voluti liberi di scegliere. Non solo, ma in Gesù Cristo, vi ripeto, ci dà anche la forza per vincere. Ecco che allora Gesù comincia, come vero condottiero di un popolo, è il primo a mettersi nel lagone della battaglia. Ed ecco che gli vengono rivolte tre tentazioni. Il Vangelo ne parla di tre tentazioni, probabilmente saranno state di più, ma l'Evangelista le raggruppa nel numero di tre. La prima è la tentazione al materialismo, a cedere alle necessità della carne, ai fame di che questi sassi diventino pane. La seconda è la tentazione a tentare Dio. Atteggiamento sbagliatissimo nel quale anche noi a volte cadiamo, no? Pretendiamo che Dio intervenga miracolosamente, prodigiosamente, in certe situazioni. Non deve essere una pretesa. Noi dobbiamo credere che Gesù ci ama, che Gesù ci soccorre, e affidarci a Lui. Non è che dobbiamo pretendere. Certo fatalismo nella fede rasenta proprio la tentazione rivolta a Dio. Quando Gesù viene posto sul pinacolo del Tempio, Satana gli dice, Gettati giù, vedrai che gli angeli verranno a sorreggerti. Ma come? Verranno se vogliono. Verranno se Dio li manda. Non è che io possa pretendere che gli angeli facciano una cosa del genere. Gli angeli obbediscono a Dio. Capite, no? Atteggiamento proprio con... Siamo noi che dobbiamo essere tentati. Non è Dio che deve essere messo alla prova da noi. Certo orgoglio, certa superbia. Ci fa credere quasi dei segni dei. E poi terza tentazione è quella l'idolatria. Tutte queste ricchezze, tutti questi regni saranno tuoi se prostrandoti mi adorerai. Abbiamo appena visto, carissimi fratelli, le scene pietose e tristissime di una falsa chiesa, per fortuna, che si è inginocchiata di fronte, prostrata, non solo inginocchiata, prostrata, di fronte agli idoli di questa terra. Pazza mamma. E non soltanto a baciare i piedi di altrettanti idolatri. E non proseguo su questo discorso. L'adorazione. Se tutto questo sarà tuo, ma che cosa sarà nostro, cari fratelli? E tutto è di Dio. A noi è stato dato in amministrazione. Niente deve essere veramente solo nostro. Se prostrandoti. Vedete allora che l'adorazione dei beni della terra non è altro che adorazione di Satana e non è altro che assoggettamento, perdita della libertà. E Gesù risponde, «Solo Dio adorerai e solo Lui servirai». Ecco, carissimi fratelli, questo. Perché Gesù ha voluto andare nel deserto per noi. L'abbiamo detto prima. Per aiutarci a vincere. Ed è voluto andare nel deserto e essere tentato per rimediare a quanto aveva fatto Adamo di fronte alle tentazioni e soprattutto il popolo di Dio nel cammino verso la terra promessa. Ecco. Con questo voglio terminare e cerchiamo di vivere con impegno il tempo della Quaresima che la Madonna, i Santi siano con noi, che gli Angeli ci aiutano. Ecco, veramente, vedete, se noi cacciamo, perché il testo finisce così, gli Angeli lo servivano. Se noi mettiamo tutte le nostre forze ad allontanare la presenza dei demoni dalla nostra vita, che cosa avremo? Il vuoto? No. Avremo gli Angeli buoni che saranno a nostro servizio. Ebbene sì. Perché Dio li manda proprio come ministri a servire le anime che sono in cammino su questa terra. sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. In nome dei Patris e Fili e Spiritus Sancti. Amen.